Un ultrassestorico della Curva Nord, parola anche a Giovannino, facciamo... va giù. La situazione è abbastanza critica Giovanni. Sì, purtroppo qui credo che non c'è tanta trasparenza e quindi noi chiediamo soprattutto questa, per l'amore di questa città che noi per anni l'abbiamo sempre onorata e difesa davanti a tutti e tutti. Quindi non possiamo rimanere così, come fino a ieri, magari doloranti in casa. Ora dobbiamo avere risposte certe e concrete. Qualche iniziativa che prenderete? Per ora è tutto così. Ci si ritrova, se ne parla e aspettiamo una risposta più concreta. Morale? Morale a terra, perché noi è inammissibile passare così dalle stelle alle strade in poco tempo. Ci dispiace davvero perché noi questa città e questi colori l'abbiamo sempre onorato, alla lettera. E quindi ci devono portare il rispetto, assolutamente. Il senso di rispetto ci vuole, ripeto, non tanto per chi è a sedere protempore in questa posizione, ma per la gente che è fuori, per i tifosi che sono fuori, che stanno aspettando informazioni. Grazie.